Buongiorno a voi! Scusate i miei modi, ma mi serve un favore. C'è una consegna per me al porto. Un'orchidea rara, giunta fin qui dal Madagascar. Ma temo ci sia un problema. Uno dei miei colleghi vuole il fiore per sé. Ha mandato degli sgherri a prenderlo. Non è assurdo. Dovete recuperarlo per me prima di lui. Dovete recuperarlo per me prima di invece. A presto. Sì. Sì. Stop! E sparare! No, no, no. 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 Ah, vi sono grato, grazie mille. Questa piccola orchidea potrebbe sembrarvi banale, ma racchiude segreti che potrebbero cambiare la nostra conoscenza del mondo. E per fortuna non è andata persa, grazie, grazie ancora.